Oh, ci sarà un concorso di bellezza! Oh sì, saremo il re e la reginetta della scuola! Non vincerò nessun concorso con questo aspetto! Perché mai mi sono lupita di speranze? Alice, puoi mangiarmi adesso? Mi dispiace, Alice, vai a cercare qualcun altro con cui fare uno spuntino! Assolutamente no! Prenzerò comunque, a qualunque costo! Elsa viene con me! Bene, Elsa, sei pronta per questo? Allora, seguimi! Cosa? Ha funzionato! Fa così freddo qui! Bene, per favore aiutami con il mio restyling! Non farmi ridere perdente! Smettila di prenderla in giro, Alice! Non preoccuparti, amica, ti aiuterò io! Ma prima valutiamo i danni! Enormi borse sotto gli occhi! Acne! Baffi! Sì, sei una vera nerd! Oh no! Non posso essere io! Non esiste! Ok, ti aiuto io! Ma prima il pranzo! Oh, giusto! Quasi dimenticavo! Ehi! Dov'è finito tutto il ghiaccio? Va bene, che ti succede adesso? Non diventerò mai una reginetta di bellezza! Oh, povera creatura! Spogati e piangi! Grazie, amica! Mi piacciono i drink ghiacciati! Sì, 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 siamo qui per te! Cosa facciamo adesso, ragazze? Innanzitutto ci prenderemo cura delle tue occhiaie! Meno male che abbiamo del ghiaccio a portata di mano! È davvero rinfrescante, vero? Oh, non siamo nemmeno a metà del lavoro! Non preoccuparti, ma... Dobbiamo sbarazzarci dei tuoi brufoli! Non preoccuparti, andrà tutto bene! Andiamo! Oh, ho fatto tutto quello che potevo! Guarda, impara, amica! Wow, non ho mai visto niente del genere! Beh, come sta? Guarda, Mavy! Sì, sei perfetta adesso! Ah, ma questa roba è contagiosa! Oh no, il mio viso è impeccabile! Qualcuno risolva questo problema! Va bene, resisti, ce ne occuperemo con l'aspirafori! Finalmente sono tornata alla normalità! Oh, sei così carino! Il mio prezioso, affascinante principe! Oh, è il momento perfetto per la cena! Ah! Oh! Au, au, au! Elsa, smettila di giocare con la lente! Ci serve per il tuo restyling! Oh! Quanti peli! Wow, ha funzionato davvero! Ora è il momento del concorso di bellezza! No, non con quelle sopracciglia! Oh, Mavy, sei fantastica! Possiamo finalmente dire addio ai baffi! Oh, i cambiamenti di look sono faticosi! Guarda questa bomba da bagno maledetta! Dopotutto, l'unica cosa migliore di un bel bagno caldo... è un bel bagno caldo con le bolle! Alice, dove sei? Oh, la vasca! Sì, sembra un'ottima idea! Oh, oh! Rinfreschiamoci un po'! Oh, perfetto! Elsa, questo è un passo oltre il limite! Ops, è colpa mia! Sì, è il mio bagno! Ok, entriamo! Qualcuno mi aiuti! Ok, Alice, calmati! Puoi farcela! Oh, ce l'ho fatta! Oh, la farò pagare a quella nerd! Wow, guarda tutta questa roba! Oh, cos'è? Ecccio! Che schifo! Toglietemi di dosso quella cosa! Ancora, Elsa? Beh, non è stata colpa mia! La gente starnutisce! Non preoccupatevi, sistemerò tutto! Stai bene, amica! Non preoccuparti, ci pensiamo noi! La stiamo perdendo, Alice! Devo trasformarla in un vampiro! Proviamo prima la rianimazione! Forse dovrei morderla! No, forse la respirazione bocca a bocca aiuterà! Ma non posso farlo! Basta, la mordo! Bene, Elsa! Benvenuta nella tua nuova non morte! Sono... una vampira adesso! Non preoccuparti, è molto divertente! Ora che tutto è sistemato, abbiamo le zanne! Ecco fatto! Beh, come sto adesso? Assolutamente brillante! Dai un'occhiata alla mia fantastica ricetta per la maschera a viso! Ecccio! Oh, niente moccio! Ora aggiungiamo l'ingrediente finale! Niente male, Elsa! Ma manca ancora qualcosa! Adorerai questa piccola aggiunta! Bene, abbiamo quasi finito! Non resta che mescolare! Adesso vieni dalla mamma! Sei una fifona! Alice, di nuovo davvero? Sì! Ok, tesoro! Voglio che provi questa cosa! Wow! Oh oh! Qualcosa non va! Oh! È in fiamme! Resisti, Elsa! I cambiamenti di look sono piuttosto pericolosi, eh! Oh, non è così male, Elsa! Guarda! Oh! La mia pelle è perfettamente liscia ora! Sistemati e mettiti comoda! Cosa facciamo? Laveremo i capelli, no? Facciamolo! Lo shampoo non è mai troppo! Sembra che ci sia una piccola bufera di neve! Ehi, Alice! Beccata! Maby! Oh, non essere arrabbiata! Dai, giochiamo! Oh, me la pagherai! Sono la regina dei combattimenti a palle di neve! Ah, potete smetterla voi due? Ah! Una tirandinata! Bene, sono pronta per andare avanti! Ehi, cosa vi è successo? Oh, mi dispiace tanto, ragazze! Vi aiuto! State bene! Eh, Alice, hai un po' di roba qui? Non preoccuparti, Maby! Voi state tranquille e io mi pettinerò i capelli! Wow, sei davvero brava! Beh, voi due siete state delle ottime insegnanti! Wow! Possiamo farlo, Rosa, per favore? Ottima idea, tesoro! Oh, so come si fa! Wow! Stai bene, Elsa! Oh, non me lo aspettavo! Quel pipistrello ha rovinato tutto! Non preoccuparti, risolveremo il problema! La cipra ci aiuterà! E tu? Vai per la tua strada, ok? Ehi, che problemi avete? Va bene, Elsa, stai ferma! È ora di lavorare sul naso! Oh! Oh, che male! Oh, è un'ottima idea, amica! Aggiungiamo un po' di glitter ai tuoi occhi! Così! Wow! Wow, mi sento così... Principesca! Ho una sorpresa per te, Elsa! Oh, per me! Aha! Questo! Allora, come sto? Sei fantastica! Grazie per l'aiuto, ragazze! Ma ci siamo completamente dimenticate! Il mio outfit! Oh, poverina! Ok, Elsa, ti aiuteremo noi! Sa cosa fare! Scegli quello che vuoi! Non perdiamo altro tempo! Sbrigati e mettiti quella roba! Oh, non sta andando bene! È anche peggio di quello che indossavo prima! Va bene, calmati! Ah! Oh, non c'è proprio modo di farti felice! Eccolo! Oh, Alice, sei un genio! Non ti darò il mio vestito! Beh, non te lo sto chiedendo! Mettitelo, Elsa! Oh, grazie mille, amica! Finalmente sono pronta! Sei la migliore, Alice! È ora che partecipi al concorso! Puoi farcela, amica! E la corona va a... Ehi, non potete arrivare qui così! Cosa pensate di fare? La corona va ad Elsa! E il tuo sangue va a me! Non mi pagano abbastanza per questo! Ecco qua, Elsa! Sì, sì, ho vinto! Cosa? Già finito? Beh, congratulazioni! Sei la migliore, Elsa! Possiamo avere il tuo autografo! Ehi, occhio! Cos'è successo? Ti avevo avvertita, Elsa! La neve non è un giocattolo! Immagino di averti persa per davvero questa volta! Signorina Anna, tua sorella ha bisogno di riposare! Puoi rivederla domani! Inoltre è quasi ora di cena! Bene, Elsa, finalmente siamo soli! Non vedo l'ora di fare festa! Ehi, ghiaccio! Non è giusto! Oh, mi hai quasi congelato le zanne! Beh, ci vediamo dopo, Elsa! Ehi, sorellina! Sono tornata! Cosa sta succedendo? Ti senti bene? Sto benissimo, sorellina! I tuoi occhi! Quanto tempo ho dormito! Oh, che prurito! È ora di cena, signorina Elsa! Oh, sei giusta in tempo! Bene, vediamo! Avena? Che schifo! Così mi piace di più! Raffreddiamo questa roba e... Delizioso! Non avrei mai pensato che avrei mangiato un ghiacciolo per cena! Cosa stai facendo, signorina Elsa? Dove hai preso quel ghiacciolo? Eh, 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 sangue! Non muoverti! Potresti cadere! Ora va meglio! Ma come hai? Sono tornata, Elsa! Oggi abbiamo qualcosa di delizioso per cena! Ok, penso di aver finito! Ehi, sono allergica all'aglio! Cos'è successo? Niente più aglio d'ora in poi! Elsa, che ci fai lì dentro? Quello è il nostro frigorifero! Esci di lì! Subito, Elsa! Ok! Sono ancora piuttosto affamata! Ci penso io, sorellina! C'è qualcuno in casa? Hai ordinato una pizza, vero? Esatto! Ecco qua! Tieni il resto! Ehi, hai un bell'aspetto! Commestibile! Qualcuno mi aiuti! Non te la caverai, amico! Ho bisogno di sangue! Elsa! Non puoi farlo! I corrieri non ti mangiano! Ti libererò, amico! Ma faresti meglio scappare in fretta! Dov'è? L'hai lasciato andare, Anna! Sono perfettamente calma! Ok, qui ha finito! Oh, che male! Mi servirebbe un cerotto! Oh, non ce n'è bisogno! Ti aiuterò io con quel sangue! Stammi lontano! Non mi prenderai! Apri la porta mia! No! Non lo farò! No! Per favore, non mangiarmi! Non lo farò! Mi serve solo un po' di sangue! Per favore, principessa! Ritorna in te! Oh, questo è proprio ciò di cui ho bisogno! Sto venendo da te, Mia! Non sperarci, signorina Elsa! È sale? Come osi usare il sale contro di me? Non puoi toccarmi adesso! Prova a mardermi! Va bene, Mia! L'hai voluta tu! Sto celando! Oh, ma guarda cosa ho qui! Perché non vieni a riscaldarti un po'? Oh, grazie per il pranzo! Mia, dove sei? Qualcuno ha fatto un gran casino nella mia stanza! Hai visto la nostra cameriera? È qui! Mia? Sai bene? Oh, sto benissimo, signorina Anna! Ci sono quasi... Eh, sa! Avevo quasi battuto il mio record personale! Dai un'occhiata a questo, invece! Ho scaricato Tinder Vampy! Ah, no, lui no! Oh, hai bisogno di un restyling, amico! Ok, la terza volta è quella buona! Oh, che carino! Ti mando un like! Penso che siamo una bella coppia! Perché non andiamo ad un appuntamento? Certo, mia principessa! Non vedo l'ora! Quindi, questa è la tana del vampiro, eh? È ora di mettersi al lavoro! Ma prima mi serve un travestimento! Stai bene! Aspetta, non è l'ora del fast food! Potrei usare questa! I principi devono avere una corona! Non possiamo permetterci di rovinare tutto, Anna! Dennis sarà qui da un momento all'altro! Oh, eccolo! Ciao! Grazie, sono bellissimi! Ma cos'è questo? Aglio! In realtà non sei un vampiro, vero? In effetti io odio i vampiri! Non te la caderai, bugiardo! Ah, sì? Chi mi fermerà? Oh, ti farò pentire di avermi presa in giro! Che lancio! Me la pagherai per questo succhia sangue! Ho quasi finito! No! Il mio castello di carte! Sei stato tu? No, non volevo! Per favore, lasciami andare! Sei in punizione, signore! Oh, Anna! Cosa farei senza di te? Stai qui! E pensa a quello che hai fatto! Dammi il cinque! Ora sei tutto mio, amico! Oh, sono così annoiata! Oh, questo è eccitante! Un concorso per principesse, eh? Beh, diamo un'occhiata! È qui che si fa il casting! Non fatevi illusioni, ragazze! Il principe sceglierà a me! Oh, ora tocca a me! Sono pronta, mio principe! Tira fuori la scarpetta! Oh no, non lo farai! È ora che tu mostri la tua codaria! Guardi, abbiamo un'imbrogliona qui! No! Posso metterla! Dai, dai! Oh, mi dispiace tanto, mio principe! Beh, immagino non fosse destino! Va bene, chi è la prossima? Oh, sì, ce la farò! No, non ce la farai! È fuori dalla tua portata, Rapunzel! Oh, sembra complicato! Ma ti aiuterò, principessa! Oh, che c'è? So che è della mia misura! Ci sto provando! Ma immagino che la nostra storia non funzionerà! Ciao, sono Elsa! E questa è la mia scarpetta! Oh, sei bellissima! Ma tu sei un vampiro! Ah, è sempre così! Portami il cuore di questo ragazzo su un vassoio! Come comandi, principe Selsa! Ottimo lavoro! E buongiorno, mio principe! Sei bellissima! Verresti a un appuntamento con me? Oh, gelato! Il cibo perfetto per la colazione! Oh, la mia zanna! Non posso essere un vampiro senza le mie zanne! Ok, devo chiedere aiuto alla fattina dei denti! Sono sicura che si farà vedere presto! Ok, chi è la ragazza fortunata che ha perso un dentino? Io! E tu devi aiutarmi! Riparami le zanne, per favore! Oh, solo un momento! Dai, scegli quelle che vuoi! Ma ho finito le zanne da vampiro, quindi... Non preoccuparti, Elsa! Ho le zanne perfette per te! Fredda e gelide! Proprio nel tuo stile! Beh, immagino che le proverò! Allora, come sto? Guardati! Sembri un trichetto! Oh, internet lo adorerà! Ehi, Elsa! Posso fare un selfie con te? Oh, no! Non funziona senza zanne! Oh, principessa! Oggi niente sangue! Ehi! Ridammela! Non credo che lo farò! Vieni qui! Buon compleanno, sorellina! Sei pronta? Allora, esprimi il tuo desiderio! Dai, amica! Puoi farcela! Uff! Scusa! Ecco la sostituzione, sorellina! Provali! Nel frattempo mi occuperò di questo! Bentornata, Anna! Wow! Mi sento super giovane adesso! Ehi! Cosa fai? Questi sono miei adesso! Cosa hai fatto, Anna? Adesso sembro una mendicante! Adoro la vista dell'oro! Bene, sorellina! Seguimi! Quando il resto della città va a dormire, gli zombie si svegliano! Jack era il ragazzo perfetto per lei! Oh, oh! Sono in ritardo! Non posso permettermi di perdere questo appuntamento! Oh! Ok, questo non serve! Gli insetti non sono molto romantici! Allora, dov'è Jack? Ehi, bellezza! Oh, sì! Allora, Jack, ti sono mancata! Hello! Jack, si è davvero dimenticato di me! Immagino che gli zombie non siano popolari! Ecco il tuo ordine, signorina! Prego! Goditi la vista! Oh, la morte non mi ha resa più bella! Non farti prendere dal panico! Ho un'idea che potrebbe aiutarti! Sembra un sospetto! Guarda tutti questi prodotti di bellezza! Wow, è un vero tesoro! E ora è tutto mio! Aspetta, Jack! Presto staremo insieme! Non appena avrò completato il mio zombie restyling! Dov'è la mia beauty box? Ah, eccoti! Bene, non perdiamo tempo! Facciamolo! Oh, avrò un bel da fare! Oh, sembra che Giulia abbia avuto un piccolo problema! Rimettiamo la lingua al suo posto! Fin qui tutto ok! Ma quei brufoli richiederanno un po' più di impegno! Meno male che Giulia non ha paura di questa piccola sfida! Avremo bisogno di un paio di pinzette per questo lavoro! Non mi sfuggirai! Ti ho preso! Non male! Non credere che mi sia dimenticata di te! Ok, e ora è qui! Non sei più il benvenuto! Vai a cercare un altro posto in cui stare! Ora prendiamo l'aspirapori! Questi brufoli spariranno senza lasciare traccia in pochissimo tempo! Abbiamo fatto un ottimo lavoro! La pelle è liscia come la seta! Ok, è ora di una piccola pausa a cinema! Aspetta, perché non riesco a sentire niente? Ecco il problema! Immagino di dovermi prendere cura delle mie orecchie! E penso che qui ci sia lo strumento perfetto per questo! Ottimo! Sei proprio quello di cui avevo bisogno! Bene, facciamolo! Ehi, esci di lì! Dovrei farlo più spesso! Penso che ti riciclerò però! Questa cripta ha bisogno di un piccolo tocco di personalità! Ma cosa c'è che non va nei miei capelli? Andatevene da qui! È la mia testa! E non siete invitati! Ottima! Mi stava giusto venendo fame! Ora tu! Che buono! Lo so! Dovrei riscaldarvi un po'! Migliorerà il gusto! Ehi! Ne vuoi un po'? No! Fai come ti pare! Non sai cosa ti perdi! Ma... Oh! Devo ancora fare qualcosa per i miei capelli! Non c'è da stupirsi che mi abbia dato buca all'appuntamento! Ma come posso risolvere questo problema? Oh! Un tubo! Proprio quello di cui avevo bisogno! Adesso anche la nostra cripta all'acqua corrente! Ci siamo quasi! Uh! È persino calda! Ah! Giusto! Mi ero dimenticata dello shampoo! Grazie! Ora possiamo finalmente lavarci i capelli! Ma non è scomodo? Eh sì! Dovremmo pulire bene tutto il cuoio cappelluto! Non c'è sport che questo shampoo non possa gestire! Benissimo! Dopo un accurato lavaggio dovremo asciugare i capelli! E poi finalmente potremo rimetterli! Ha funzionato! I nostri capelli ora sono come nuovi! Mmm! Ehi! Questa è un'idea! Dammi quell'osso! Adesso è il mio! Ne ho più bisogno io! Per amore della mia pettinatura! Ehi! La mia mano! Ridammela immediatamente! Non rubare mai più parti del mio corpo! Se non hai bigodini, puoi usare le ossa! Mmm! Et voilà! La nuova pettinatura è pronta! Julie ha dei gusti molto particolari in fatto di libri! Ma mangiare sarà una sfida con dei denti così! È giunto il momento di prendersi cura dell'igiene orale! È per me? A cosa serve? Uh! Ho capito! Non posso lasciare che Jack veda lo stato dei miei denti! Sistemiamo tutto! Ok! Basta applicare il dentifricio e... Sì! Uno spazzolino da denti non sarà abbastanza! Dobbiamo ricorrere a misure estreme! Perché non prendere semplicemente una nuova serie di denti? Grazie! Ne avevo proprio bisogno! Adesso va meglio! Belli e puliti! Oh! Non essere triste! Ecco! Puoi avere i miei vecchi denti! Beh? Cosa ne pensi? Dieci su dieci! Sì! Ma... Oh! Smettila di mettermi in imbarazzo! Ora diamo un'occhiata alle ultime tendenze della moda! Oh! Interessante! Si scopre che avere un tono di pelle uniforme è davvero importante! Tutto ciò che serve è una bella porzione di gesso! Aspetta, Jack! Ti innamorerai di nuovo di me! Bene! Vediamo se ha funzionato! Uh! Non male! Ma questi peli rovinano tutto! Liberiamocene! Bastano un po' di cera e un paio di insetti velenosi! Riscaldiamo, mescoliamo bene e... Siamo pronte per il trattamento! Ora applichiamo la miscela sui baffi e sulle sopracciglia! Mettiamone un bel po'! La ceretta non è mai troppa! Strappiamo la cera! I peli andranno via con lei! Ah! La mia faccia! Devo riavere la mia faccia! Per il bene di Jack! Au! Uh! Mi sento di nuovo me stessa! Dovrei anche truccarmi! Quindi... Lo prendo in prestito, va bene? Wow! Sono davvero intelligente, vero? E presto sarò anche carina! Aspetta! Come si usano? Ok! Internet! Ehi! È piuttosto emozionante! Mi piace! Grazie, cara! Merita un like! Ma prendo io il cuore! Si scopre che truccarsi è davvero facile! Prima di tutto, servono gli stencil e un ombretto luminoso! Fin qui è tutto ok! Ora ravviviamo il look! Gli strass saranno perfetti! Ma non è abbastanza per Giulia! Ha bisogno di più glitter! Molti di più! E ora, la parte più importante! Applicare l'eyeliner! Ottimo lavoro, Giulia! Ora è il momento di lavorare sulle labbra! Ed ecco un altro utile life set! Usare uno stuzzicadenti per disegnare prima il contorno delle labbra! E infine, il tocco finale! Incipriare il naso! Ecccio! Di nuovo! Torna indietro! Sei il mio occhio preferito, lo sai! Dove sei? Ti troverò prima o poi! Non te la caverai! Oh! Era il mio occhio! Ma che sfortuna! Ok! Mi serve un nuovo occhio! Oh, ciao! Che piacere incontrarti qui! Dimmi! Potresti prestarmi un occhio? Grazie! Fantastico! Ci vedo di nuovo! Wow! Le cose stanno finalmente migliorando per la vecchia Giulia! I miei vestiti sono... Cosa vuoi? Oh, è così premuroso da parte tua! Penso che sceglierò... Questo! Grazie! Sei un vero amico! Hai ragione, però! Potrei mettere anche questo! Un copricapo, eh? Voglio quello! Ora girati! Devo provarli! Allora, ti piace il mio nuovo look? Beh, a me no! Tu invece stai benissimo! Penso che sia giunto il momento che ti impari a condividere! Jack! Ti sono mancata! Oh, sei davvero tu, Giulia! Stai benissimo! Non pensarci nemmeno, Jack! Stai lontano da me! Ciao, amica! Oh, adoro quegli insetti che stai mangiando! Allora, come va la tua vita nell'aldilà? Hai fame? Dai, serviti! Oh, grazie! Ottimo! Rapunzel, amore mio! Principe Nicholas, finalmente ti ho aspettato per tanto tempo! Benvenuto nella mia torre! Lasciarei perdere i dolci se fossi in te! Questi sono per te, mia principessa! Oh, che dolce! Principe? Mi dispiace tanto! È stato un incidente! Andrà in prigione! Non provare a fare scherzi! Seguirai le regole alla lettera! Ma questo è... Ok! Penso che tu stia nascondendo qualcosa! Perché non controlliamo? Lo sapevo! Non ci si può affidare di una principessa! Anche le altre, signorina! Non dovrai cucinare dietro le sbarre! Mettiti a tuo agio, Rapunzel! Di nuovo, Elsa? I miei trucchi con il ghiaccio non sono super! Te ne pentirai! Non mi interessa la tua magia! Quindi faresti meglio a non irritarmi! Ciao, sono Elsa! Oh, un momento! Piacere di conoscerti! Sono Rapunzel! Oh, chi ha progettato questo posto insipido? Tranquilla, posso risolvere il problema! Farebbe comodo un po' di neve! Fin qui tutto bene! Lo adoro! Ma perché fermarsi qui? I ghiaccioli sono sempre di moda! Da dove vengono tutti quei fiori? Che buon profumo! Ciao, Olaf! Ci incontriamo di nuovo, eh? Sono così felice di vederti! Ti piace il mio nuovo castello? Che freddo! Non voglio neve qui! Per me è solo giungle tropicali! Anche io so decorare, sai? Ah, assolutamente magico! Ah, eccoti! Mi sei mancata! Bene, un'altra cosa! Non è questo! Oh, dove sei? Non te la caverai! Uh, ha funzionato! Grazie al cielo non ti ho persa! Ma mi ero quasi dimenticata dell'altalena! Diamoci da fare! Perfetta! E ora vai lassù! Meraviglioso! È tutto proprio come ricordavo! Sono pronta ora! Mio principe! Vieni a salvarmi! Il nostro amore sarà eterno! Cosa sta succedendola? Capisco, la principessa sta sognando di nuovo d'occhi aperti! Rapunzel, svegliati! Oh, allontanalò da me! Impara la lezione, principessa! Lo vedi Elsa? Biancaneve adesso è un avvocato! Beh, sembra affidabile! Allora diamoci da fare, Rapunzel! Ci servirebbe davvero un avvocato? Va bene! Siamo bloccate in prigione! Salvaci, Biancaneve! Non fatevi illusioni, ragazze! Decido io chi parte e chi resta! Ehi, cosa sta succedendo qui? Non te la caverai, nano! In prigione! Oh, come hai fatto? Non mi sfuggirai! Non provarci nemmeno! Sei veloce, te lo concedo! Ridammi la chiave, ok? E vai in prigione! Aspetta, è impossibile! Come diavolo! Perché siete così tanti? Non ci posso credere! Sono l'avvocato di questi adorabili tizi e sono qui per offrierti un accordo! Ok, puoi riavere il tuo piccolo amico! Ce ne sono altri? Bene, bene! Andiamo, signorina, a non essere avara! Siete tutti liberi di andare! Biancaneve, qui! Oh, ha finito i saldi! Ma noi? L'avevi promesso! Scusate, ragazze, sono impotente qui! Oh, che cos'è? Non posso credere ai miei occhi! Sono ovunque! Ho i miei poveri capelli! Ma aspetta, non sono i miei capelli! Rapunzel, penso che tu abbia perso qualcosa! Oh, grazie! Giusto in tempo! Devo finire di lavorare a maglia! È il nostro campo da tennis personale! Fantastico! E casualmente ho una palla a portata di mano! Giochiamo! Passa, Elsa! Prendi! No, odio perdere! Vediamo se ti piace questo, Rapunzel! Lo sapevo! Prendi! Oh, cos'è successo? Riposati per ora, cara! Ti do il cambio! Sei pronta, Elsa? Ti avverto, però sono molto brava! Ah sì? Beh, non mi interessa! Ti piacerebbe battermi! Wow! Non sapevo che il tennis potesse essere pericoloso! Hai perso, principessa! Suppongo che tocchi alla grande malefica! Ti faccio vedere come si fa! Ahahahahah! Non mi batterai! La prigione può essere piuttosto divertente! Vai, malefica! Vai! Guarda, Elsa! Possiamo uscire da quella parte! Seguimi! Dove pensate di andare? La partita non è finita! Tornate alle vostre posizioni e continuiamo a giocare! È ora di cena, ragazze! È il piatto d'autore della Chef Malefica! Spero che vi piaccia il porridge di ratto! Oh sì! Non posso dimenticarmi delle spezie! È molto delizioso! Sono sicura che vi piacerà! Cosa? Siete già qui? Bene, principessa! Mettetevi in fila! Vi ho preparato una deliziosa sorpresa! Mmm! Un buon profumo! Cavolo, ho tanta fame! Pazienza, voi due! Devo solo aggiungere la ciliegino sulla torta! Buon appetito, Rapunzel! Bleh! È davvero commistibile! Dovete assaggiarlo, ragazze! Mmm! Sicuramente è buono! Possiamo avere un po' di sale? Certo, solo un momento! Andiamo, Rapunzel, via libera! Ho trovato! Dove siete? State cercando di scappare di nuovo? Vi troverò prima o poi! Ora possiamo finalmente avere del cibo vero! Cameriera! Oh, non vedo l'ora di mangiare di nuovo un hamburger! Ecco il vostro ordine, signorine! Manette! Non le abbiamo ordinate! Mmm! Oh no! No, per favore! Il porridge si sta raffreddando! Dì! Rimarrete qui per sempre, sciocche ragazze! Non vi perderò di vista! Oh, penso di aver bisogno di un travestimento! Ora va meglio! Non muovete un muscolo, principesse! Questa è la nostra occasione, Rapunzel! Sei con me? Lo sono! Va bene, prendi la mira con attenzione! Puoi farcela! Ha funzionato! Shhh! Ora tira! Dai, solo un po' di più! Eccoci! Quasi! Ehi, stiamo lavorando qui! Fatti da parte! Siamo finite! Chi c'è? Vi tengo d'occhio! Cosa state facendo voi due? Volevo solo rilassarmi un po'! Bobo ti meriti un premio per questo! Per quanto riguarda voi ragazze, fareste meglio non irritarmi più! Bene, Bobo! Sei promosso a poliziotto! Come ti senti? Elsa, fai qualcosa! Ho un'idea! La mia magia del ghiaccio non mi ha mai delusa prima! La libertà è vicina! Eh? Cosa? Perché all'introvviso fa così caldo? Oh, non mi sento a mio magio! Niente più buffonate da parte tua dolcezza! Qui la neve è vietata! Oh, mi sto sciogliendo! Elsa, non puoi mollare adesso! Oh, ma dov'è la tua chiave? Guarda, è qui nelle mie mani! Benvenuti al mio spettacolo musicale scintillante e gelido! Davvero, Elsa? Smettila subito! Voglio dormire! Oh! Non so più cosa fare con te! Sta per mostrarti com'è la vera musica! Ti piace? Oh, sì? Ah! Rapunzel, stai zitta! Ti piace questo tipo di magia, eh? Vai a dormire, Elsa! E non aprire gli occhi! Bene, è ora di fare un piccolo scherzo! Elsa, svegliati! Palle di neve, eh? Ho un'idea! Ho bisogno del tuo aiuto! Puoi starmi a dire ancora un po'? Stai andando alla grande! Wow, guarda quanta neve! Rapunzel, smettila! Non è più divertente! Shhh! Che ne dici di una battaglia a palle di neve? Pensi che a malefica piacerà? Beh, proviamo! Dai, Rapunzel! Cosa state facendo voi due? Non mi piace la neve, smettetela! Allora facci uscire di qui! Non vogliamo più essere bloccate qui con te! Ha funzionato, Rapunzel! Ce l'abbiamo fatta! Oh, piccole criminali! Ve la farò pagare! Oh, oh! Siamo nei guai! Cosa farà? Siete finite, piccole principesse! No, non lo siamo! Stai attenta alle previsioni di quello che oggi è particolarmente scivoloso! Oh, me la pagherete! Prendi questo! Oh! Ehi, lasciami andare! Qualcuno mi aiuti subito! Rapunzel, guarda le chiavi! Andiamocene di qui! Dai, tieni il tasso! Ho ancora una cosa da fare, Elsa! Ne sei sicura? Lo sono! Malefica, sei in punizione! Quindi resta qui e non muoverti! Ora corriamo! Come osate farmi questo? Oh, ce l'abbiamo fatta! Grazie per l'aiuto, Rapunzel! Sei una grande amica! Ehi, è ora delle vacanze! Significa che devo partire! Ci vediamo in spiaggia!